Sono Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Mi sto preparando per una prossima missione nello spazio e quindi naturalmente cerco di andare in palestra tutti i giorni a fare attività fisica e cerco in particolare di fare quei protocolli di allenamento, in particolare allenamento resistivo con i pesi che poi eseguirò ogni giorno a bordo. A bordo siamo in questa condizione di assenza di peso e quindi sia per il mantenimento della massa muscolare che per mantenere la massa ossea, quindi la salute delle ossa, è importante fare ogni giorno allenamento resistivo. Abbiamo una macchina particolare che si chiama ERAD che ci permette di fare questi esercizi che sono molto simili agli esercizi che possiamo fare sulla terra, quindi dagli squat, praticamente sulle gambe, deadlift, bench press. A bordo eseguiamo questi esercizi ogni giorno e abbiamo uno slot dedicato per l'attività fisica di un paio d'ore. Grazie a tutti.